Calcio femminile, buon esordio in Coppa Italia per il Napoli che vince 2-1 in casa del Tavagnacco. Dopo l'amara retrocessione dell'anno scorso, le Azzurre puntano un immediato ritorno in Serie A e per farlo cambiano anche casa. Alessandro Di Liegro. Sì, ma Napoli, paese! Napoli! Napoli torna a Napoli. Dopo il campionato di esilio a Cercola, il Napoli calcio femminile torna a calcare prati all'interno del territorio cittadino in un'amichevole tra prima squadra e primavera, con l'obiettivo di rendere in Landieri di Scampia lo stadio per le gare casalinghe sia della Serie B che del maggiore campionato giovanile. Ci siamo mosti nelle ultime settimane a tutti i livelli, sia comunali che in federazione. Abbiamo già sbloccato la primavera e a brevissimi siamo certi di sbloccare anche per la prima squadra. Un'idea nata dopo un'attività realizzata lo scorso anno all'Inmitrofo Parco Corto Maltese e che ha affascinato giocatrici, staff tecnico e dirigenza. Noi ospiteremo il Napoli, diventeremo suoi tifosi e sono sicuro che questa collaborazione aprirà un percorso virtuoso e di forte sinergia. Il campo dedicato ad Antonio Landieri, vittime innocente di Camorra, è l'unico a Napoli oltre il Maradona con una tribuna coperta. Circondato dai palazzi del quartiere, giocatrice e coach sperano possa essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il ritorno in Serie A. Un posto dove c'è vita, dove basta vedere questi palazzi che ti dà proprio l'espressione della vita quotidiana di Napoli, ho sentito proprio Napoli. Speriamo che molte persone verranno a sostenerci e speriamo di conquistare i nostri tifosi e chi ci verrà a vedere giocare. Napoli deve giocare a Napoli, è la cosa più importante.